Noi gli abbiamo chiesto se vuole che il centrodestra esista, si può ripartire da questo. Ci sono sei referendum ancora per pochi giorni firmabili in tutti i comuni italiani, a tre tengo particolarmente, quello che cancella l'infame riforma Fornero sulle pensioni, quello che regolamenta e toglie dalle strade la prostituzione, portandoci a livello di Europa, e quello che reintroduce il reato di immigrazione grandestina. Se Berlusconi verrà a firmarli, cosa che mi ha garantito, almeno in alcuni casi, entro il fine della settimana arriviamo a 500.000 firme e Renzi lo sfidiamo sui temi, sulle pensioni, sull'immigrazione, sul lavoro, sulla prostituzione e non sulle promesse.